Iniziata la campagna referendaria, un successo anche qui? Sì, siamo solo all'inizio, abbiamo 60 giorni per arrivare a 3 milioni di firme, una roba da matti che però come Lega contiamo di riuscire a fare perché le imprese folli ci vengono bene. E quindi ci sono referendum giusti, cancellare la legge Fornero è giustizia sociale, cancellare la legge Merlini e tassare la prostituzione è un atto di giustizia sociale, cancellare le prefetture significa ridare i poteri ai sindaci e risparmiare 500 milioni di euro all'anno. Quindi sono battaglie giuste che stanno avvicinando ai nostri gazebo, tanta gente che con la Lega non c'entrava niente, magari da domani invece c'entrerà qualcosa perché vede che portiamo avanti battaglie buone, arrivano dati entusiastici dei militanti di Genova, di Trieste, di Brescia, di Milano, di Crema, di Lissone, di Como, che non ce la fanno a star dietro alla fila di gente che vuole firmare, quindi vuol dire che l'aria è buona, l'aria è buona. È una sorpresa anche per lei, ovunque si muove tanta gente si stringe, le vuole bene, l'applaude, è un strano effetto. Sì, poi io rifugo, il complimento fa piacere però qua vince la squadra, vince la comunità, però c'è energia, c'è aria positiva, evidentemente tanti leghisti in sonno avevano bisogno di qualcosa, di qualche segnale, lo stiamo dando, la battaglia contro il mostro europeo, sono tutte battaglie importanti contro un'immigrazione che ormai è diventata invasione e per restituire poteri ai territori, quindi anche questi referendum, se noi riusciremo col voto degli italiani a cancellare la riforma Fornero, restituiremo diritti acquisiti a tanta gente, a tanti pensionati esodati e speranza ai giovani, perché se qualcuno ti costringe a lavorare fino a 70 anni è chiaro che per un ventenne, un trentenne, è più difficile cominciare, quindi c'è questo entusiasmo, merito nostro, demerito altrui, perché se io guardo a quello che succede negli altri partiti non c'è niente di altrettanto frizzante, vediamo di tenere duro. E non soltanto referendum, anche qui a Vercelli si è parlato di Europa, di Euro, il voto ha detto sarà quasi un referendum anche quello. Sì, non ci sono elezioni europee, ci sarà un referendum, c'è il partito unico dell'euro da una parte, tutti, PD, Forza Italia, Udc, Alfano, Monti, Casini, lo stesso Grillo che non dice via dall'euro, e la Lega. Qui non si sceglierà un partito fra i tanti, c'è un referendum fra il passato, che è l'euro, e il futuro, che è una moneta più giusta, fra la morte e la vita delle nostre imprese, dei nostri artigiani, li abbiamo tutti contro, però non ci spaventa. Sì, è stata che qualcuno tenti di seguire la Lega anche per quanto riguarda le alleanze europee? Eh, figurati, adesso si risvegliano tutti indipendentisti, autonomisti, federalisti, anti-euro, va bene, se ci danno ragione su battaglie che noi facciamo da tempo va bene, la gente però sa chi le fa con forza perché ci crede e chi le fa per pigliare due voti in più. Io non so se ci porterà voti in più o in meno, io la battaglia per una moneta più giusta e per un'Europa più giusta senza euro la faccio, a prescindere perché mio figlio voglio lasciare un lavoro, una possibilità di lavorare qua e non in Polonia, in Canada o dall'altra parte del mondo. Basta euro.org, ormai sono più di 300.000 i click di persone che hanno scaricato questo libricino e spero che tanti altri lo facciano. Oggi è stato presentato il candidato sindaco qui di Vercelli, ma soprattutto abbiamo sentito che lei più che il presidente del Milan prefererebbe in futuro diventare, che so, il sindaco della società. Fare il sindaco è la cosa più bella e più difficile del mondo perché ha a che fare con la gente in carne e ossa e puoi cambiare la tua città, puoi difenderla, puoi coccolarla, puoi conoscerla, puoi proteggerla. Oggi per Roma il sindaco è un esattore, un becchino, perché Roma dice al sindaco massacra i tuoi cittadini, mentre invece i sindaci con le palle difendono i loro cittadini. Se il buon Dio i milanesi vorranno mi piacerebbe un domani farlo.